Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Barbara D'Urso si prepara ad essere nonna per la seconda volta. La notizia è stata annunciata dalla stessa conduttrice pochi minuti fa attraverso un video pubblicato sulle sue storie Instagram. La nuora Giulia e il figlio maggiore Gian Mauro Berardi daranno alla luce una seconda nipotina, dopo la piccola Matilde nata nel 2022. Gian Mauro, medico specializzato in trapianti, non ha mai avuto legami con il mondo dello spettacolo e ha viaggiato per il mondo tra Giappone e New York per motivi di lavoro. È noto per essere molto riservato, come ha rivelato la stessa D'Urso in passato durante una puntata di Domenica Inn. Barbara D'Urso ha condiviso con i suoi followers la gioiosa notizia della prossima nascita della sua seconda nipotina attraverso un video su Instagram. La compagna di Gian Mauro, Giulia, appare nel video insieme alla conduttrice per annunciare la lieta novità. Durante il video si può notare un momento divertente tra Barbara e Giulia che scherzano sul fatto che potrebbero aspettare due gemelline. La complicità tra le due donne è evidente e si capisce che c'è grande affetto reciproco. Gian Mauro e Giulia hanno già una figlia insieme, Matilde, nata nel 2022. Gian Mauro è un medico specializzato in trapianti di fegato e ha sempre desiderato mantenere la sua vita privata separata da quella della madre famosa. Barbara ha raccontato in passato che il figlio ha sempre voluto essere riconosciuto per i suoi meriti e non per il suo legame con lei. La famiglia si prepara ad accogliere un nuovo membro e Barbara D'Urso si appresta a vivere il ruolo di nonna per la seconda volta.